Davide, ottima prestazione oggi. Sono più i meriti del Mantova o i demeriti del Limolese? Assolutamente i meriti nostri. Abbiamo preparato benissimo la partita e si è visto. Secondo me abbiamo fatto un primo tempo di altissimo livello, uno dei migliori quest'anno secondo me. Siamo andati a pressarli bene sin dal primo minuto, sapevamo quello che volevamo. Volevamo a tutti i costi. Oggi era importante i tre punti e la cosa più importante è stata questa. E poi ritrovare la vittoria dopo sei partite che non vincevamo è stata una cosa molto importante. Tu hai il gol del temporaneo 3-0 su calcio di rigore. La scelta di battere quel rigore è ricaduta su di te. Ma com'è stata questa scelta? Ho visto che Guccio aveva già segnato e se no non mi sarei mai permesso. Ho detto se me lo faceva battere e me l'ha lasciato con Pippo. Ho un bellissimo rapporto. È un grandissimo giocatore, oltre che una grande persona. Quindi l'ho ringraziato anche dopo il gol e sono contento. Sono quelli raccolti oggi tre punti che avvicinano il Mantova alla salvezza? Sicuramente sono tre punti che pesano nel nostro percorso e sono tre punti che sono troppo importanti e ci volevano. Ma da stasera ricarichiamo le pile perché già da domani c'è da preparare un'altra partita. Da quattro giorni si rigioca e ci aspetta una grande battaglia perché lì comunque è vero sono ultimi ma hanno una grande squadra e avranno tantissima fame di vincere perché gli servono più punti ma anche noi dobbiamo continuare con te e fare altrettanto.